Il nostro affetto, oggi la nostra attenzione è per Samuele, questa nuova creatura che resta perché uomo, creatura stupenda di Dio, ma diventa figlio di Dio e quindi fratello nostro, quindi non possiamo far finta, è uno di tanti, no, lui è uno, siamo tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.